Radio Bruno Pinguini, tattici nucleari con Ringo Starr, benvenuti a Radio Bruno Ciao ragazzi, grazie Ragazzi però scusate, non è che siete arrivati terzi e Sanremo ve la tirate adesso arrivate mezz'ora dopo vi fate attenti anzi ragazzi, è proprio perché siamo arrivati terzi ma comunque anche noi siamo umani e subiamo il traffico non avete ancora l'elicottero per arrivare appunto, io mi ricordo a Live Aid dell'85, Phil Collins aveva fatto da una parte all'altra dall'Europa all'America in elicottero e noi purtroppo abbiamo un van avete il furgone, non ce la facciamo, non siamo Phil Collins allora eccoli qui, finalmente li abbiamo con noi, sono i primi tra l'altro dopo Sanremo a venirci a trovare, ci fa molto piacere i pinguini tattici nucleari al completo con questo album che è fuori dall'hype Ringo Starr che è appena uscito a dire il vero l'album della prima edizione era già uscita, avevamo scorso anno, poi avete ripubblicato la nuova edizione dove c'è anche la canzone di Sanremo e non solo perché c'è anche altro materiale inedito insomma Terzi e Sanremo, rivelazione del festival, così si legge, si sente che è una bella cosa siete stati un po' proiettati da quello che era il vostro mondo precedente a un mondo che è molto diverso devo dire, no? Come vi trovate in questa nuova dimensione? ti dico, era molto diverso il mondo da cui veniamo, sì, cioè noi abbiamo cambiato tanti mondi siamo un po' degli esploratori dello spazio, nel senso che passiamo da mondo a mondo e ne abbiamo passati tanti ormai questo nuovo mondo in realtà ce lo aspettavamo un po' più, sai, magari davanti alla telecamera in radio e via dicendo, molto simpatico, dolce, ma poi nel dietro le quinte no, molto gelido e invece non è così, abbiamo trovato degli amici a Sanremo, tra i conduttori, degli amici fra i musicisti, i nostri colleghi che magari invece è anni che calcano questi tipi di mondo, no? e quindi in realtà siamo felicissimi, più che altro per il rapporto umano che si è venuto a creare anche nel dietro le quinte, quindi da Terzi dietro le quinte ci siamo sentiti primi veramente, ci hanno fatto sentire molto bene, molto orgogliosi abbiamo appena sentito Ringo Starr, lui era il più defilato dei Beatles, non certo il sex symbol del gruppo adesso diciamolo, chi è il sex symbol dei pinguini tattici nucleari? quello a cui tirano i reggiseni durante i concerti? allora io oserei dire, interpellerei anche il sex symbol, che non sono chiaramente io ma è la persona con la, si dice body confidence, no? sì esatto, che è lui, cioè è Elio c'è questa storia ragazzi, che noi da un po' di anni che giriamo a fare concerti visto che io soffro molto il caldo e sudo molto a un certo punto alla fine dei concerti ho cominciato a levarmi la maglietta quando c'erano 15-20 persone davanti poi le cose sono aumentate, le persone sono aumentate adesso ce ne sono 15.000 esatto tutti chiedono questa cosa qui e i famosi reggiseni effettivamente li lanciano per me però io sono un bravo ragazzo, ci tenevo a dirlo, è solo facciata ok tutta facciata senti, la facciamo quella domanda che nessuno gli ha fatto? dai io lo so già allora ci hanno detto che tutte le volte che ve la fanno voi vi inventate una storia nuova esatto ok allora ne vogliamo sentire una nuova anche noi e siccome abbiamo lanciato anche sui nostri canali Instagram avete detto che domande volete fare ai pinguini tattici nucleari visto che vengono a Radio Bruno chi ci ha scritto, magari non vi conosce ancora, può essere ha detto ma vogliamo sapere perché si chiamano pinguini tattici nucleari quindi noi la domanda la facciamo la storia inventatevela voi allora fondamentalmente sai quando c'era il referendum sul nucleare non parliamo di politica ora però diciamo che c'era questo movimento che appunto veniva chiamato i pinguini come adesso ci sono le sardine un tempo c'erano i pinguini non se ne è parlato tanto nella stampa ma esisteva e tattici perché tattici? perché tatticamente andavano in ogni città d'Italia a fare delle manifestazioni pro o contro nucleare non lo so, non mi ricordo non sono una persona informata tuttavia si riferisce a questo movimento qui ci siamo chiamati così perché ci sembrava un bel nome ed era un movimento comunque che noi eravamo ragazzini comunque avevamo 15-16 anni però ci attraeva molto bravo a scrivere storie ragazzi le vogliamo tutte raccolte in un album adesso in un libro ma noi potremmo fare veramente un album effettivamente musicale con tutte le boiate che ci siamo inventati sarebbe un album doppio come minima ma anche di più ragazzi mi sa che saremmo i primi a fare il triplo album con vacate totali sul nostro nome parliamo anche del video di Ringo Starr che è una chiara citazione al film Ritorno al futuro, al ballo, in canto in fondo al mare e in questo caso ti sei trasformato in Martin McFly come è data questa idea? è nata e tra l'altro saluto anche Fabrizio Ferraguzzo il nostro discografico è nata un giorno in cui io, Fabrizio Ferraguzzo e Gianrico Cuppari che è il nostro manager appunto eravamo insieme in studio e parlando tra un'idea e un'altra non abbiamo sempre valanghe di idee è saltata fuori insomma questa idea di fare una citazione a un film da parte mia penso e Fabrizio Ferraguzzo è intervenuto dicendo ma che film ci accomuna tutti noi tre un film che ci piace a tutti noi e chiaramente anche ai Pinguini a cui dopo l'ho sottoposto però in un secondo momento e abbiamo pensato a Ritorno al futuro e infatti io sono stato Martin e gli altri, vuoi dirlo tu signor Pasini? noi poi abbiamo interpretato quelle che erano le diverse personalità all'interno della band che suonava appunto all'Enchantment perché se noti tutto è identico anche il background la scenografia e loro anche con gli stessi colori vestiti, strumenti abbiamo, adesso ora la racconto poi finisco dovuto fare veramente dei salti mortali per trovare il contrabbasso bianco perché nessuno in Italia a quanto pare ha un contrabbasso bianco tranne un tizio a San Marino che ce l'ha affittato l'abbiamo implorato ti prego dobbiamo fare il video della vita ti prego ti prego perché non si trovava un contrabbasso bianco al giorno prima dovevamo comprarlo poi questo ragazzo di San Marino di cui non so il nome ma saluto ce l'ha concesso e quindi è stato veramente difficile organizzarlo è così, è arrivato il video di Ringo Starr io adesso però vedere se veramente l'hanno fatto uguale esatto, anch'io sono curioso andiamo? fammi vedere Paolo se l'hanno fatto uguale vai sentiamo ok ragazzi promossi abbiamo visto le immagini di Ritorno al Futuro e siete stati tutti bravissimi voi e il vostro staff grazie vogliamo anche fare appunto i complimenti a William e tutta la produzione 16 Noni per il lavoro che hanno fatto perché è veramente incredibile complimenti davvero senti mi è piaciuta moltissimo anche l'iniziativa voi da sempre insomma siete legati siete legati diciamo a tematiche che riguardano l'ambiente e l'iniziativa dell'adozione dei pinguini che non è una cosa nuovissima perché era già successo credo non so con i vostri fan avevamo già fatto l'anno scorso per dei preascolti esclusivi avevamo detto vabbè voi non è che dovete comprarci l'album prima dovete venire ai nostri concerti mostrare il biglietto e via dicendo ma dovete fare una buona azione e tra queste varie buone azioni che avevamo proposto ce n'era una in partnership con il WWF che era appunto adotta un pinguino quest'anno i pinguini li abbiamo adottati direttamente noi e a Sanremo li abbiamo dati in qualche modo non proprio dati li abbiamo e sai è un'adozione quindi volevamo che ci fosse ognuno dei partecipanti dai conduttori agli ospiti agli artisti con il proprio pinguino quindi abbiamo dato il certificato di adozione a ciascuno di loro da Adiletta ad Amadeus ai nostri colleghi Eugenio Iviarigioia a Rita Pavone Pavone e pinguino quindi però c'era un po' di quel pro gli abbiamo dato il nome di tutti questi ospiti perché chiaramente ogni operazione aveva bisogno di un nome a guidarle quindi c'è un pinguino Anastasio un pinguino Amadeus che se razzompettano belli allegri in Antartide pare che in Antartide ci sia anche il pinguino Morgan che sta cercando il pinguino Bugo esattamente Nell'album fuori dall'hype Ringo Starr c'è un'altra canzone che piace moltissimo ai vostri fan che è Verdura è proprio una delle più amate cos'è che la rende così speciale? Ma guarda io quella canzone l'ho scritta era una sorta di dialogo con mia madre una sera sono andato a vivere da solo da non tantissimo tempo e lei mi diceva come mi ha sempre detto quando vivevo con lei devi stare attento e fare una dieta equilibrata cosa che il nostro lavoro non ci consente di avere in più io non ho dei grandi gusti in ambito culinario e la verdura la odio quindi niente e le dicevo appunto guarda che io riesco ad essere felice nella canzone dico riesco a ridere anche quando mangio la verdura anche se mangio la verdura nel senso era una sorta di roba così per ridere con mia madre e niente era un dialogo così che alla gente poi è piaciuto non ho bene idea del perché chiaramente poi la canzone parla di altro di una storia d'amore e via dicendo ma pochi sanno che la storia dietro è abbastanza banale c'è molto anche è il tuo problema con i cavolfiori mi ricordo tra l'altro la prima cena da una delle mie ragazze storiche non riuscii quasi a stare al tavolo perché c'erano i cavolfiori e io proprio la cosa che odio di più al mondo sono i cavolfiori l'odore ti indispetti sì è proprio veramente quell'odore lì e quindi c'erano i genitori che volevano fare conversazione conoscermi e via dicendo io cercavo di scappare tu avevi la faccia schifata sì e penso che tanti si ritrovino forse in questa cosa della verdura sì ma sono però quelle classiche cose sai vai in famiglia dalla tua fidanzata e ti mettono i cavolfiori davanti li odi però devi far finta infatti è una metafora di vita tu ogni tanto crescendo devi fare delle cose anche che non ti piacciono per il tuo bene giusto e forse la metafora dietro è un po' questa la canzone parla di ciò allora noi la sentiamo fra pochissimo perché la vedo già pronta no invece parte già e quindi l'ascoltiamo subito Pinguini Tattici Nucleari Verdura i Coldplay su Radio Bruno questa era di Hardest Part questa canzone l'abbiamo fatta scegliere direttamente ai Pinguini Tattici Nucleari che adesso ci spiegano anche perché proprio questa abbiamo scelta innanzitutto perché i Coldplay sono una band che adoriamo tutti sono un prototipo di band proprio ideale perché innanzitutto sono legati da una grande amicizia e pur avendo avuto alti e bassi negli anni sono sempre riusciti a sopravvivere e sono dei grandi anche solo per questo al di là di quello ci colleghiamo un po' anche con Sanremo perché c'è la vecchia che balla è vero ed era fatto un po' prima dello stato sociale altri nostri amici altri grandi amici e ci interessava un po' fare vedere anche questo video che secondo me è strepitoso è fantastico e penso che conveniate anche voi assolutamente sì ragazzi tra poco vi dobbiamo lasciare andare perché alle 18 avete appuntamento alla Feltrinelli di Bologna per l'In Store Tour dove incontrerete i fan però ragazzi oggi è San Valentino quelli di voi che sono fidanzati impegnati come fanno a festeggiare i due terzi sono fidanzati dico bene unire più della metà se posso dire una cosa unire l'utile al direttevole si va a Bologna appunto per l'In Store la mia ragazza io la trovo a Bologna e quindi unisco l'utile al direttevole con questo passo e chiudo noi altri abbiamo mandato segnali gesti d'affetto guarda io devo essere onesto San Valentino non l'abbiamo mai festeggiato lui è l'alternativo lui è il vegano è il vegano della band è quello che non festeggia San Valentino è quello che deve sempre rompere un po' su tutto quindi ci sta che non festeggia San Valentino elemento di rottura e l'altro? e l'altro concordo sul fatto che l'amore si festeggia e si celebra ogni giorno grazie il filosofo il filosofo il rompe balle il filosofo quello che unisce l'utile al dilettevole è quello di poche parole tutti ci abbiamo e il single va bene allora noi vi salutiamo vi lasciamo andare in quel di Bologna visto che vi stanno già aspettando volevo ricordare che c'è un tour nei palasport che sta per partire esattamente il 27 di febbraio c'è la prima data quindi non manca tanto a Pordenone e poi c'è un bel sold out al Mediolanum Forum di Milano il 29 cioè è stato sold out tra l'altro in pochissimi giorni 20 giorni non ce l'aspettavamo neanche tra l'altro doveva essere l'unica data e poi ne abbiamo aggiunte altre perché quella è andata sold out subito quindi ci trovate a Roma ci trovate a Padova a Firenze tante città insomma anche Bologna tornerà stasera solo alla Feltrinelli alle 18 abbiamo detto yes all'Unipol Arena saranno all'Unipol Arena il 12 di marzo e poi anche il gran finale il 19 marzo di nuovo al Mediolanum eh sì Milano e Milano Milano e Milano ragazzi grazie di essere stati con noi tornate presto a trovarci in bocca al lupo per tutto e noi naturalmente vogliamo consigliare ai nostri ascoltatori di ascoltare tutto il vostro nuovo album fuori dall'hype Ringo Star grazie mille grazie ciao ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi